Quando guidi pensa a chi ti ama perché se ti rispetti le regole è un modo sicuro per vivere e per tornare a casa da chi ti ama e dai tuoi cari. Al posto delle palle dei cartelli che esortano a mantenere un corretto comportamento stradale, al posto del puntale invece una paletta a Monte San Savino è stato così allestito un insolito albero di Natale fatto di cartelli stradali. Volevamo augurare in modo educativo buone feste a tutti i nostri cittadini e anche ai turisti che vengono a visitare la nostra città. L'albero di Natale pensato e realizzato dalla Polizia Municipale di Monte San Savino si trova a lungo corso Sangallo proprio accanto alla sede del comando nel centro storico. Ci sono consigli sulle regole da seguire per le norme del codice della strada, quindi di rispettare i colori del semaforo, di raccogliere le dedizioni dei cani che a volte ci creano problemi per le strade del nostro comune, quindi un incitamento all'educazione nei confronti di questo problema, poi ci sono messaggi su che cos'è la protezione civile, quindi prevenzione, primo soccorso e informazione alla cittadinanza, il rispetto dei pedoni, quindi degli utenti più deboli del codice della strada e quindi in generale tutte le norme per la sicurezza degli utenti della strada. Insomma l'albero di Natale può diventare anche uno strumento di educazione stradale. Sfruttare un evento di festa anche per dare degli insegnamenti, dei messaggi e delle indicazioni. A riguardo però vorrei sottolineare che Monte San Savino ha queste sensibilità. Infatti oltre che l'albero di Natale vedete che sotto le loggie dei mercanti vi è un presepe, un presepe fatto da tutti gli anziani della nostra casa di riposo insieme a altri anziani di altre case di riposo limitrofe proprio per dare un segnale che anche gli anziani partecipano e hanno fatto qualcosa visibile e apprezzabile.